Il progetto Todomodo, nato dal super trio composto da Giorgio Prette e Xavier Iriondo degli After Hours e dal cantautore Paolo Saporiti, sarà presentato dal vivo a Roma al Quirinetta Caffè Concerto il prossimo 25 novembre. Per la prima volta nella capitale le tre colonne del noise rock italiano porteranno sul palco una nuova bellissima esperienza, l'insegna di sonorità contaminate provenienti dal loro passato e unite al presente rappresentato proprio da Todomodo, nome del gruppo e dell'album Desordio uscito per Goodfellas il 16 ottobre. Un album ruvido con canzoni abrasive, spigolose, seducenti come sono state definite che parlano ai fan degli After Hours ma anche alle nuove generazioni pronte a farsi rapire da un progetto unico che verrà presentato per la prima volta a Roma proprio al Quirinetta Caffè Concerto il 25 novembre.